Grazie a tutti. La curiosità del far ridere, quanto è difficile far ridere. Ad esempio, dopo la performance che ho visto, io potrei farvi una spaccata e so che ci riuscirei perfettamente. Cosa ridete? Allora, c'è una teoria abbastanza diffusa sulla infelicità del comico. Proviamo a parlarne un po', no? Perché la maggior parte dei comici sembra di capire che debba essere per forza triste, infelice, problematica, no? Un comico serio, che sembra quasi, no? Un comico serio è una cosa che non funziona. Un comico serio debba avere per forza avuto una vita travagliata o comunque molto breve. Muore giovane e male. Per questo io mi tengo sempre al di sotto della media. L'unico che è riuscito finora a salvarsi è Woody Allen. Woody Allen ha da poco compiuto 86 anni, sembra in forma, nonostante abbia avuto una vita che avrebbe fatto arrossire Charles Manson. e abbia avuto una produzione artistica inumana. Difatti lui dice che non ha smesso di lavorare neanche una domenica. Cioè ha lavorato sempre Woody Allen. Anche per questo abbiamo un sacco di roba sua. Perché è riuscito a sopravvivere Woody Allen? Secondo me per due qualità fondamentali. La prima è che è un uomo dotato di una straordinaria arguzia. E quindi non si lascia sedurre da certi pruriti autolesionisti, no? Che possono avere le persone insicure, come i comici. E la seconda qualità, vabbè, riguarda la sua etnia. Lui è ebreo e quindi per DNA deve per forza sopravvivere a qualsiasi cosa. Ora, ultimamente Woody Allen ha pubblicato la sua autobiografia che si chiama A proposito di niente. Un librone, come immaginerete, no? Visto appunto ne ha di cose da raccontare. Avrebbe voluto pubblicarla anche negli Stati Uniti. Ma negli Stati Uniti, nonostante immaginate che operazione commerciale potesse essere, no? Pubblicare l'autobiografia di Woody Allen. Cioè, no? Ce n'è di roba da dire. Nessuno ha voluto pubblicarla. Ma la cosa ancora più bizzarra è che la biografia, l'autobiografia di Woody Allen è stata pubblicata in Italia. Cioè, non siamo così come... È stata pubblica. Leggetela. Perché intanto è una vita che vale la pena di essere letta e di essere raccontata. Perché guardate, ci sono tante autobiografie che non dovrebbero... Non è obbligatorio scrivere libri. Soprattutto che parlano di... Non è... Perché sembra a volte, no? Invece quella di Woody Allen vale la pena. A pagina 65, Woody Allen parla proprio del dibattito secolare sull'eventuale grande tristezza del comico. E contraddice anche questa tesi. Lui a pagina 65, se comprate la mia stessa versione, dice Ho avuto un'infanzia felice. Non sarei dovuto diventare ciò che sono diventato adesso. E questo contraddice, no? Tutti coloro che hanno sempre detto che la ricetta del comico perfetto è un'infanzia, non dico, insomma, stuprata, ma comunque molto vicina alla violenza o comunque una storia travagliata in ambito familiare. Affinché una persona abbia senso view humor... Guardate che non tutti sono dotati di senso view humor. Questa è una scoperta assurda, curiosa, che ha fatto Freud. Io non lo amo, ma lui tra una riga di coca e l'altra ha tirato fuori questa cosa curiosa, apparentemente. Cioè che non tutti siamo dotati di senso dell'umorismo che magari, insomma, consolerà tante persone che dicono, ah, vedi perché, allora quello non è uno stude. Semplicemente manca il microchip, ok? Allora, affinché una persona sia non soltanto dotata di senso dell'umorismo ma riesca anche a farne un mestiere, beh, sembra scientificamente provato che questa persona che chiameremo comico, deve essere prima trapassata dalla tragedia e deve essere sopravvissuto a quella tragedia. E nella maggior parte dei casi sopravvissuto a quella tragedia grazie all'ironia. Il più grande studioso di umorismo, far ridere che esista, ma, insomma, è esistito, è un biologo che si chiama Gregory Bateson. È un biologo, ma è anche il più grande esperto che abbiamo avuto di processi schizofrenici. Ecco, forse perché ha studiato i comici. Comunque, è da vedere. Beh, Bateson, tra le sue gigantesche teorie molto interessanti, ne ha detta una apparentemente molto banale, cioè che la risata è uno dei soli tre comportamenti che sono biologicamente associati a delle convulsioni che non siamo in grado di controllare, no? Gli altri due comportamenti, oltre alla risata, sono il dolore profondo e l'orgasmo, per chi l'ha provato, ovviamente. Dunque, questo forse potrebbe spiegare, no? La teoria per cui la maggior parte dei comici, appunto, porta con sé un dolore profondo e l'altra maggior parte è depravata, no? Se leggete, appunto, un po' di biografie dei comici. Se incontrate un comico che le ha entrambe, avete davanti un genio, inchinatevi per terra. Ecco, risata, amplesso e dolore profondo. Una piccola digressione sull'amplesso, visto che si parla di complessità, amplesso e complesso hanno la stessa etimologia. Forse perché è la cosa più difficile da ottenere. Comunque, basta con queste battute di poco conto. Allora, torniamo a bomba, ok? Risata, dolore profondo, quindi pianto, quello con i singhiozzi, la risata con le convulsioni e l'amplesso, il vostro, non lo voglio sapere, sono tutti e tre collegati da questa capacità dell'organismo di liberarsi dal sopralluogo della mente. Cioè, quando noi effettuiamo queste tre consuetudini, che per fortuna ancora abbiamo, è come se dessimo una specie di passo alare al nostro corpo. Avete presente? Quello che danno ai pizza, no? Questo passo dove puoi free drink. Stessa cosa. Un passo alare che diamo al nostro corpo in cui gli diciamo vai, liberati, tira fuori tutto quello che devi tirare fuori, scopri delle cose di te stesso che pensavi di non sapere proprio attraverso questo meccanismo che non riesci a controllare. assurdo. Chi sta telefonando? Non vi faccio più ridere, eh? Ecco, mi avete fatto perdere il seno. Ma per fortuna ho il bigino. Oh, allora, Ah, eccoci qua. Quando proviamo un orgasmo, quando abbiamo un grande dolore, una grande risata, diamo questo passo alare al nostro corpo e gli diciamo vai, lo puoi fare. È gratis. Non c'è da vergognarsi, non è pericoloso. Era da tanto che avresti voluto farlo, non è vero? Non sono frasi rassicuranti da dire al vostro corpo, io le trovo delle frasi molto rassicuranti. E sapete qual è l'obiettivo primario dell'umorismo, della nascita dell'umorismo? È proprio la rassicurazione. È questo accordo che si stipula tra chi fa ridere e chi ride. Persone che non si conoscono, che all'interno del momento in cui si fa una battuta e si riceve la battuta, crea questo incantesimo. Un incantesimo che appunto avviene tra persone che non si conoscono. È una cosa meravigliosa. A cosa serve, se no, l'umorismo? Ad attenuare l'orror vacui della nostra esistenza? Tutti l'abbiamo, no? Questo terrore della vita. E questo terrore della vita probabilmente Dio a un certo punto si è reso conto che comunque era abbastanza pesante da affrontare e ha detto creiamo l'ironia che sia in grado di abbassare la temperatura, di abbassare il volume di questo horror vacui. L'ironia quindi ci permette di sostenere il mondo prima ancora di viverlo. Ci permette di avere un ingrediente fondamentale a ciò che è la nostra esistenza e c'è la leggerezza. Dici, basta con questa leggerezza perché adesso si parla solo di leggerezza, di resilienza. Questa parola che ormai veramente mi provoca immediatamente la dissenteria. Ma per fortuna manca poco. Sì, la leggerezza io la intendo non appunto come resilienza perché difficilmente usciremo vivi da questa vita. Adesso poi la resilienza. però ecco, la leggerezza è intesa come la capacità di diminuire il peso specifico delle cose, degli eventi e delle persone. Per questo noi diciamo prendiamoci poco sul serio. È esattamente così. L'ironia, la risata è un farmaco omeopatico che ci dà questa possibilità da utilizzare. Dobbiamo però esserne provvisti. Ha 800 mila milioni di proprietà benefiche però il tempo sta scadendo e quindi ve le andrete a vedere su uno dei testi di Gregory Bateson tipo l'umorismo nella comunicazione umana è molto divertente. Io vi dico la mia proprietà preferita in assoluto dell'umorismo che forse è il motivo per cui ho scelto questo mestiere. Quella capacità di farci digerire delle cose che non saremmo in grado di digerire, delle verità terribili che non vorremmo sentire ma che sappiamo dentro di noi. Ecco, l'umorismo arriva aggiungendo appunto la risata come ingrediente e ci permette di deglutire queste verità terribili e quando si compie questo incantesimo vero e proprio lì c'è la satira. Che bella! Ma si sta estinguendo. Qual è il nemico numero uno della satira? Perché sta andando via ormai da questa epoca? perché abbiamo paura di offenderci. In questo preciso momento nel mondo è pronta una minoranza a offendersi. Ne crescono così dappertutto. Sì, sì, fateci caso, non si può più fare una battuta sul Covid, sulla Nato, sul femminismo, sulla comunità LGBT. Si possono fare battute? Si possono fare battute sugli ebrei? No, solo su Woody Allen. Si possono fare battute sugli italiani? sì, perché insomma siamo d'altronde barzellette carabinieri, carabinieri italiani. Ma il comico o chi decide di intraprendere questa professione riceve un manualone grosso così con la regolamentazione della battuta che è proprio il segreto per svilirla, per non farla neanche nascere. Una battuta che scientificamente provato avrebbe potuto guarire qualcuno, lenire il dolore a qualcuno o avrebbe potuto far uscire una verità che tanti attendono. Ora, non devo dirvi io il mio pensiero anche se lo immaginerete su quanto una battuta vada calmierata, su quanto la satira vada contenuta, su quanto l'umorismo vada reso borghese, ma vi saluto con un contemporaneo di Bateson che si chiama Yankers, un psicologo, roba da niente, 1952, questo signore, quindi parecchi anni fa ma sempre attuale, si alzò durante un congresso in cui c'era anche Bateson e disse lo scimpanzee è il secondo animale che quando vede un altro animale o un uomo ridere di lui si offende. Non rallentiamo l'evoluzione più di quanto sia già stato fatto, questa è la sfida più complessa. In bocca al lupo. Grazie. 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 Grazie.